L'accusa degli alberghi nel lungomare così non funziona Ruota panoramica alla palla, sabato il primo giro Discarica a riceci, marche multiservizi, convoca CDA per decidere Soccorso una barca incagliata nelle scogliere di Fiorenzuola Dani da alluvione, mercoledì, confronto a Pesaro con le ministro Musumeci Una buona serata Buonasera, telespettatori di Rossini TV e benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News Telegiornale di oggi, giovedì 6 luglio, che apriamo occupandoci di turismo È un'estate partita con diverse problematiche, quella del settore alberghiero pesarese Criticità nuove e altre che vengono trascinate da anni Che oggi la categoria ha elencato sollecitando un confronto vero con il comune Vediamo il servizio Una stagione di turismo partita in fallo a causa di un cortocircuito comunicativo malgestito che va ad aggiungersi a problemi vecchi di anni, acutizzatisi in questo primo scorcio d'estate Nell'appena aperto Hotel Charlie in Pesaro, i principali albergatori della città si sono riuniti oggi in una conferenza presieduta dai vertici dell'associazionismo alberghiero cittadino Paolo Costantini, Fabrizio Liva e dal padrone di casa Nardo Filippetti Un tavolo di confronto su una lista di falle strutturali che non conciliano il rapporto fra le scelte dell'amministrazione comunale e i loro riflessi sull'accoglienza cittadina La prima problematica purtroppo è che abbiamo fatto un mese di giugno con una bassa fluenza negli alberghi quindi si parla di un calo di presenza rispetto all'anno scorso intorno al 30% e quindi molti alberghi soffrono Questo sicuramente è dovuto anche a una cattiva pubblicità e una cattiva immagine che si è diffusa sul territorio nazionale per quello che riguarda la purezza delle acque del nostro mare si è arrivato addirittura ad affermare che non è nemmeno commestibile il pesce perché comunque vive in un mare inquinato Tutto questo non è vero quindi la prima cosa che dobbiamo fare è una forte campagna per ribadire che il nostro mare è pulito abbiamo la vulnerabilità che si mangia bene e che quindi il nostro pesce è fruibile La contingenza dell'episodio maltempo si inserisce però in una trascinata permanenza di problematiche sull'arredo del lungomare L'altra cosa che noi denunciamo oramai da 4 anni dall'epoca del covid ogni anno si fanno sistemazioni provvisorie del lungomare siamo rimasti in riviera l'unica città che non ha un progetto di un lungomare vero, duraturo e stabile oramai nelle altre città addirittura i lungomari sono stati realizzati da Marotta a Rimini ma potrei dire da San Benedetto a Rimini noi siamo rimasti l'unica città con tanti finanziamenti arrivati in città faccio la ripetizione perché deve essere un rafforzativo che non ha un progetto organico per un lungomare per un arredo urbano serio e bello l'altra cosa che vogliamo denunciare in questa situazione è anche la situazione per la zona di Levante dove non si è fatto nulla per il Genica infatti è stata l'unica zona che in base all'alluvione ci sono stati dei problemi e il ritardo dei lavori su piazzale d'annunzio dove dovranno essere consegnati il 30 di giugno ma che molto probabilmente finiranno al 30 di luglio anche se la proroga ufficiale è al 17 di luglio Nardo Filippetti al pari di diversi degli albergatori presenti ha rimarcato l'incongruenza fra quella che dovrebbe definirsi una destinazione turistica per famiglie la sregolata zona di fertimenti che si è costruita a due passi dagli alberghi il risultato secondo gli hotel è che i turisti si lamentano con buona pace di un regolamento sulla gestione dell'ascolto musica e livello di decibel che è stato appena stipulato ma che di fatto non sembra né avere efficacia né capacità di controllare il rispetto dell'ordinanza Noi già dall'anno scorso abbiamo lamentato il fatto che in estate venivano inalzati i decibel di ascolto e quindi abbiamo fatto le nostre azioni le nostre proposte per poter mediare un po' la situazione quest'anno a livello di decibel la situazione è rientrata nella zona coerente alla zona mare rimane però comunque troppo estesa gli orari soprattutto nel fine settimana questo non porta tanto ad una difficoltà nel gestire le serate ma quanto poi a quello che succede dopo ci troviamo alle 2, 3, 4 di notte a dover gestire delle situazioni di ordine pubblico quindi di persone che escano dai locali fanno schiamazzo sotto gli alberghi e quindi creano problematiche oltre gli orari consentiti per questo chiediamo un maggiore controllo chiediamo degli interventi mirati e un presidio della zona così come era stato previsto l'anno scorso Un tema, quello della gestione del divertimento o movida che dir si voglia che include nella partita non solo gli alberghi ma gli stessi locali una problematica comune che ci siamo trovati ad affrontare la sicurezza del lungomare della parte che in estate è più vissuta dai cittadini che dal turismo e quindi ci siamo trovati giornate, pomeriggi ma anche sere con problemi di sicurezza con bande di ragazzi che vengono giù creando disagio sia ai cittadini sia alle attività commerciali e contemporaneamente anche alle attività di ristorazione di hotel e quindi stiamo preparando un esposto noi come attività commerciali sia al prefetto che a questore chiedendo una maggiore sicurezza maggiore controllo nel lungomare maggiore controllo nei momenti importanti che vengono vissuti nel lungomare non l'ora di pranzo, l'una, le due i orari che sono quasi inutili ma i pomeriggi e le sere dopo cena dove c'è tanta affluenza di gente quindi è necessario molto più controllo e chissà che il turismo pesarese non venga aiutato dalla attrazione della ruota panoramica che si sta allestendo presso la zona della Pala di Pomodoro di Pesaro il primo giro è atteso già per la giornata di sabato è atteso per sabato pomeriggio il primo giro di ruota con uno sguardo alto 35 metri rivolto alternativamente all'orizzonte adriatico o a scrutare il lungomare pesarese si sta infatti completando l'installazione della ruota panoramica collocata sui giardini della Pala di Pomodoro a pochi metri dalla passeggiata adiacente alla balaustra sugli scogli i tempi di installazione dovrebbero prevedere l'attrazione già pienamente operativa in questo weekend il biglietto costerà 7 euro con riduzione a 5 euro per i bambini che consentiranno tre giri completi di ruota sarà una ruota panoramica più alta di 11 metri rispetto a quella che nel Natale 2019 venne collocata in largo Aldomoro la nuova ruota di 35 metri resterà in città fino ad ottobre replicando un filone di attrazioni che già vide sullo stesso terreno la view tower panoramica alta 75 metri che rimase a Pesaro ben nove mesi fra il 2018 e il 2019 così come il ristorante sospeso Dinner in the Sky che replicò l'esperimento l'anno successivo e la telenovela sulla discarica di riceci potrebbe avere una puntata spartiacque quella del 24 di luglio dati in cui è fissato il consiglio di amministrazione di marche multiservizi che dovrà votare sì o no al progetto dell'impianto di smaltimento rifiuti speciali pensato nel territorio petrianese attraverso la partecipazione al 40% di marche multiservizi all'interno della società Aurora SRL incaricata del progetto da settimane è netta la spaccatura con i diversi soci pubblici che hanno già espresso contrarietà oltre a quella dei consiglieri che si sono dimessi dall'incarico il 24 di luglio si andrà dunque ad una conta dei voti che determinerà il futuro di questo progetto e da una discarica da realizzare o meno passiamo ad una sorta di discarica naturale che si è creata all'estremità settentrionale delle lungomare pesarese quella in prossimità delle Lido Pavarotti di Baia Falamigna dove dall'alluvione di metà maggio la spiaggia si è trascinata in un deposito di rifiuti detriti trascinati dal maltempo come potete vedere da queste immagini si sono ammucchiati svariati rami a tronchi d'albero ma anche pezzi di barche, boe, rifiutine plastiche e tubature si tratta di una zona di spiaggia libera che non è gestita da concessionari e che dunque non ha un privato direttamente coinvolto nella rimozione di questo materiale da più parti si sollecita l'opportunità di un intervento pubblico volto a ripulire un'area che è compresa all'interno delle Parco San Bartolo e cambiamo argomento e passiamo ad una notizia di cronaca perché nella mattinata di oggi un'imbarcazione con a bordo sei persone è rimasta incagliata nelle scogliere davanti a Ferenzola di Focara in seguito ad un'avaria alle motore a bordo erano presenti tre adulti e tre bambini la più piccola di un anno d'età uno dei minori a bordo ha accusato un emolore richiedendo un intervento di soccorso congiunto fra la moto vedette e il battello veloce della guardia costiera gli uomini della Capitaneria hanno prelevato i diportisti dalle natanti in difficoltà riconducendoli in porto dove il bambino è stato affidato alle cure delle 118 la moto vedette è poi intervenuta per risolvere la problematica alle motore della barca in questione consentendole di riprendere la navigazione e di scortarla fino all'ormezzo sulle fiume Foglia e sono partiti i lavori per rendere definitiva la rotatoria tra via Milano e la strada statale operai alle lavoro per rimuovere i New Jersey e completare in una decina di giorni questo delicato snodo della viabilità si tratta della seconda parte di un intervento da 400.000 euro partito l'estate scorso con la costruzione definitiva della rotatoria delle vicino Largo Tremartiri ed ora parliamo di una nuova iniziativa all'insegna dell'inclusività si intitola l'arte e le nuove generazioni per la tutela dell'ambiente l'arte e le nuove generazioni per la tutela dell'ambiente si esprime con questo titolo l'associazione di volontariato Piattaforma Solidale che con questa iniziativa porrà al centro dell'attenzione la bellezza dell'arte come esaltazione delle bellezze della natura un concetto che sarà esaltato in Piazzale della Libertà in zona Moletto venerdì 7 luglio dalle 17 alle 22 attraverso una mostra di 25 artisti di arte solidale pro arte e da laboratori d'arte inclusivi rivolti ai bambini da 8 a 13 anni Continua l'impegno di Piattaforma Solidale nel cercare di portare valori importanti come quello dell'inclusione, dell'accessibilità e della solidarietà nelle nuove generazioni non a caso Piattaforma Solidale si porta come obiettivo quello di investire sul futuro ma il futuro si crea mettendo insieme le varie generazioni entrando nelle scuole di ogni livello a portare quei principi e quei valori che ho detto prima questa iniziativa vuol portare all'interno della fascia d'età 8-13 anni soprattutto il valore del rispetto dell'ambiente perché rispettare l'ambiente significa essere solidari l'uomo, la donna deve essere solidale con l'ambiente che lo circonda se non si porta avanti questa solidarietà non si riesce a fare uno sviluppo equilibrato e lo sviluppo equilibrato deve essere l'obiettivo per il futuro per salvare il pianeta perché non dimentichiamo quello che sta accadendo e forse siamo anche stiamo arrivando anche un po' lunghi siamo un po' in ritardo però questo non ci deve far arrendere anzi ci deve portare a battagliare ancora di più e a impegnarci ancora di più per affermare l'inclusione e l'accessibilità è un'iniziativa che ci piace molto perché mette al centro i ragazzi che saranno coinvolti in attività durante quella giornata e saranno i protagonisti quindi collaboratori ma è un'iniziativa che ci piace perché è nello spirito di piattaforma solidale ma anche nello spirito diciamo nella sensibilità dell'amministrazione comunale quello di coinvolgere tematiche artistiche legate all'ambiente e legate alla solidarietà per questo che abbiamo sposato sin da subito il progetto ed è un'iniziativa che si inserisce in un quadro un'iniziativa di inclusione che diciamo stanno coinvolgendo fortemente la città in questo periodo quindi diciamo a tutte le famiglie di venire venire a trovarci e ai ragazzi e ai bambini di divertirsi in quella giornata perché siamo lì per loro il ministro con delega alla protezione civile Nello Musumeci sarà mercoledì 12 luglio a Pesaro e a Senigaglia lo ha annunciato oggi il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli in qualità di sub-commissario sulle due emergenze luvenali creati nel nostro territorio a settembre e a maggio nell'occasione il ministro si interfaccerà con i sindaci dei comuni colpiti dall'emergenza del maltempo e il capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale Marto Ruggeri denuncia un disservizio nella sanità di Fano dopo che i cittadini ieri hanno trovato la locale guardia medica inaspettatamente chiusa diverse persone presentatesi per necessità mediche sono rimaste in attesa ore davanti al portone chiuso qualcuno si è rivolto al pronto soccorso dove ha scoperto che nella serata del 5 luglio non c'era il servizio altri invece si sono rivolti alle 118 oberando nel carico di lavoro già quotidianamente consistente una mancanza di comunicazione gravata dalle fatto che non era presente nessun cartello informativo in emerito all'assenza del servizio e dalle 13 alle 16 di luglio Peso raccoglierà la sesta edizione dell'Ulisse Fest la festa delle viaggio di Lonely Planet sui palchi nelle piazze pesaresi si alterneranno personalità di spicco delle panorama culturali italiane tra scrittori giornalisti artisti fotografi di viaggio influencer ed esperti di comunicazione digitale tra gli ospiti anche Franco Armigno Vinicio Caposella Umberto Galimberti e Cecilia Sala la provincia di Pesaro raccontata da illustri viaggiatori che l'hanno attraversata nel corso dei secoli e questa è la ricerca storica alla base di una doppia mostra visitabile per tutta l'estate la provincia di Pesaro Urbino raccontata e descritta dalle testimonianze degli illustri viaggiatori che l'hanno visitata nel corso dei secoli parte da questo grande lavoro di ricerca storica l'inedita mostra viaggi a Pesaro e provincia nello specchio del Grand Tour che dall'11 luglio al 27 agosto sarà visitabile in un doppio contenitore nella sala laurana di Palazzo Ducale e all'interno della biblioteca liveriana il tutto preceduto da un'inaugurazione lunedì 10 luglio alle 18 nella sala del Consiglio Comunale il progetto che prevede l'esposizione in teche di immagini documenti e video è stato ideato e organizzato dall'associazione Ad Astra attraverso lo storico Nando Cecini e curato da Angela Cecini assieme al comitato La Memoria di Carta ovviamente non si può parlare di tutti i viaggiatori venuti però c'è tutto il filone tedesco soprattutto dei grandi storici Gregorovius Burkhart Monsen per la famosa raccolta delle iscrizioni di Latine e poi i viaggiatori francesi più giornalisti Morel che descrive l'albergo Zongo che ancora oggi c'è un palazzo Zongo che lo paragona addirittura al rizzo di Parigi colpito dalla sontuosità delle stanze di questo palazzo e poi Morel dove parlando del mare Adriatico sulla spiaggia di Pesaro dice che ormai è un mare orientale curioso anche la descrizione che il romanziere americano che tutti abbiamo letto da ragazzi Fenimore Cooper l'autore dell'ultimo dei Moicani che descrive il suo viaggio da Fano a Pesaro che con la carrozza cammina sulla spiaggia e i suoi bambini giocavano divertiti sulla morbidezza di quel tappeto che divideva il mare dalla collina del monte Erdizio questa idea di organizzare questa esposizione dalla collezione di Nando Giacini trova nel patrimonio della Biblioteca Oliveriana una sua integrazione se vogliamo perché nel patrimonio della Biblioteca Oliveriana sono presenti chiaramente tante testimonianze dei viaggiatori che sono passati a Pesaro ma anche degli stessi pesaresi che hanno raccontato Pesaro nei diversi periodi storici e in questa occasione abbiamo fatto una selezione una piccola selezione tra i nostri documenti e ci sarà una parte più antica soprattutto dei manoscritti dei manoscritti antichi e poi abbiamo scelto di raccontare di più invece il Novecento attraverso belle testimonianze fotografiche che raccontano il turismo e i viaggi dei pesaresi e non pesaresi nel nostro territorio e parte la ricca estate di appuntamenti dell'Arena BCC di Fano ad aprire il Sipario sarà domani uno dei tanti spettacoli del teatro dialettale che ci viene illustrato dal nostro Antonio Astuti Il 7 luglio il primo spettacolo che andrà in scena all'Arena BCC di Fano si intitola Nisciune Perfette e lo porta in scena una compagnia di Senigallia La tela è in questo Nisciune Perfette vedrete come in una famiglia pronta per un matrimonio quindi per un evento molto molto gradevole ci sono delle tensioni sotterranee però dovuta al fatto che fra le due famiglie c'è una grande differenza basti dire che è una famiglia Peretti detta Perfettini mentre l'altra famiglia è molto più alla meglio tant'è vero che si chiama cascamale Quindi ci sarà da divertirsi con le piccole questioni che succedono fra queste due famiglie Anche perché i componenti di questa famiglia sono molto eterogenei Una coppia marito e moglie con due figli uno lo sposo e poi c'è un nonno che è un nonno molto molto particolare e da lì ci saranno tanti momenti abbastanza esilaranti Ed era questa l'ultima notizia di questa nostra nuova edizione di Rossini News prima di lasciarvi però alle previsioni delle meteo vi ricordo gli appuntamenti di questa sera su Rossini TV perché la nostra prima serata sarà una prima serata di cibo perché potremo rivedere la prima edizione registrata nel 2019 di Masterfish il pesce va in onda appuntamento questa sera alle 21.20 e ricordo anche le repliche di questa prima edizione nel nostro palinsesto estivo sabato alle ore 22 e domenica alle ore 20 e vi ricordo l'appuntamento in diretta di domattina con la nostra consueta rassegna stampa ore 7.20 in diretta anche su Facebook sul nostro sito sulla nostra app repliche 8.20 12.20 14.20 18.20 domattina ci sarà il nostro Daniele Sacchi abbiamo parlato della nostra app vi ricordo come sempre che è facilissimo poterla scaricare soprattutto è gratuita sia su store Android quindi Google Play e sia su App Store vi ricordo che dalla nostra app potete appunto seguirci in diretta ricercare le notizie ricercare il nostro programma contattarci e inviarci anche una segnalazione ed è davvero tutto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon proseguimento di serata vi ringrazio